SNAITUBE FACEBOOK E TWITTER La prima partita Roma va a Bergamo, quotato 1,85, con il pareggio a 3,40 e Atalanta a 4,50. Poi le sere possiamo godere a Lazio Juventus allo stadio olimpico. Anche Juve è favorito, ma non così basso come la Roma. Vediamo la vecchia signora, quotato a 2, il pareggio a 3,30 e Lazio a 3,85. Ora passiamo alle partite di domenica. Cominciamo con la partita all'ora di pranzo tra Torino e Sassuolo. Qui vediamo Torino, quotato 1,85, il pareggio a 3,30 e Sassuolo a 4,50. Poi abbiamo cinque partite molto interessanti, il pomeriggio alle 15. Questa giornata sembra veramente la giornata delle quote a 1,85. Vediamo anche questa quota per l'Udinese, in casa contro Chievo, con il pareggio a 3,30 e Chievo a 4,50. Mentre la quota più bassa della giornata è il riservato per Napoli in casa contro Cagliari, quotato a 1,40. Il pareggio a 4,50 e Cagliari a 8. Parma si trova ancora in difficoltà in questo campionato. Ha sofferto una grossa sconfitta due settimane fa allo stadio di Juventus Stadium contro la Juve. Ma nonostante questo è il favorito in casa contro Empoli, un Empoli che ha vinto bene in casa contro Lazio. E vediamo Parma a 2,15, il pareggio a 3,25 e Empoli a 3,45. Poi abbiamo due favoriti in trasferta. Sampdoria è quotato a 2 per vincere in trasferta a Cesena, con il pareggio a 3,30 e Cesena a 3,85. Anche un altro favorito in trasferta è Fiorentina che va a Verona, con la squadra di Viola quotato a 2,20, con il pareggio anche Verona a 3,30. Poi passiamo al derby della Madonina, o dobbiamo dire magari il derby di Mancini, perché sembra che tutto è focalizzato su di lui nella partita di domenica sera. Qui abbiamo una situazione veramente testo-croce. Abbiamo il pareggio a 3,20 con entrambe Milan e Inter a 2,70. E per ora non vediamo una scelta definitiva per i nostri scomitatori. Vediamo un po' di soldini su qualunque segno. Poi abbiamo anche una partita di lunedì sera tra Genoa e Palermo. Una sfida tutto portuale, direi. E qui vediamo Genoa favorito in casa, quotato a 2,20 per un vettore allo stadio Marassi. Il pareggio a 3,20 e Palermo a 3,40. E qui mi sa che il mio foglio è finito, quindi ricordatevi come sempre di aggiornarvi su www.snai.it per le quote belle e fresche e belle giornate, come la pane la mattina. E ci vediamo la prossima settimana per qualche quota, spero vincente. Ciao a tutti e a presto! Grazie. 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 Grazie.